D'accordo. E poi ancora inferno, tenebre, fenomena, opera, il suo legame con Argento fu suggellato anche nella vita privata. Dal loro rapporto nacque la figlia Asia. Cinema di genere, quell'horror, è stato il prediletto di una lunga carriera, anche se l'esordio sul grande schermo è firmato dai grandi del cinema italiano come Francesco Rosi, Elio Petri, persino Ettore Scola, fino alla Salome, folle e stravagante di Carmelo Bene. Una morte improvvisa, lontana dalla sua Firenze. Willi remind me where we've been?